Ciao ragazzi, benvenuti in questa ultima stagione di Arduino. Quest'oggi partiremo con i sensori PIR, che non sono nient'altro che dei sensori ad infrarosso. Andremo a fare una funzione semplice di base di come leggere il sensore e vedere se funziona oppure no. Quindi andremo a utilizzare Arduino e l'uscita digitale numero 13 per accendere un semplicissimo LED e così permetterci di vedere se funziona oppure no. E poi nei prossimi giorni andremo a fare altri episodi su questo sensore da attivazione di un LED a un relais e alla fine come boss finale, come diciamo un riassunto di tutto il circuito che abbiamo fatto, un antifurto semplice. Però quest'oggi partiamo con la parte più semplice, quella del lettura del movimento via porta seriale. Via con la sigla! Il circuito che oggi andremo a realizzare è veramente molto molto semplice. Infatti gli occorrenti che verranno utilizzati sono solo due, un LED e il sensore PIR del costo di 1,50€ e 2,50€ in spesa di spedizione. Magari non so se avete già visto l'unboxing ma ve lo consiglio da vedere in modo un po' anche da vedere com'è il sensore, anche se lo vedremo tra poco. Comunque iniziamo con il collegamento. Innanzitutto il nostro sensore funziona con i 5V del nostro Arduino, quindi di conseguenza tireremo un cavo sulla nostra breadboard che si andrà a collegare uno al VCC e l'altro al GND. Di conseguenza al 5V del nostro Arduino e al GND del nostro Arduino. Una volta tirati questi due cavi dobbiamo tirare un cavo solo che è l'out del nostro sensore che andrà a collegarsi al numero 3 del nostro Arduino. Di conseguenza il collegamento del LED è veramente molto semplice, infatti dovremo andare solo a collegare il GND e il numero 13 al nostro Arduino, al LED diretto. Vi consiglio LED blu perché sono ad alta densità e alta luminosità e non serve di solito la resistenza, in modo che così non si brucia. Comunque ora proseguiamo sul nostro circuito. Ok, per questo circuito come detto in anticipo servirà un sensore PIR e un LED. Quindi partiamo con l'installazione del LED che è la cosa più semplice da fare nella prima parte del nostro circuito. Bisognerà solo collegarlo all'entrata 13 e all'entrata GND del nostro Arduino. Io vi consiglio le porte sopra perché è molto semplice il collegamento e molto veloce in questo modo. Ora il nostro LED è già configurato, vedete è semplicissimo. Comunque adesso dobbiamo collegare il sensore PIR che è quello più difficile da collegare perché non viene scritte le entrate e le uscite. Quindi c'è anche il rischio di mandarlo in cortocircuito. Vi insegno un piccolo trucco, sempre se non l'avete già scoperto. Se voi togliete la capsula davanti, di solito ci sono alcuni modelli che si leva senza problemi. All'interno c'è scritto i vari collegamenti, quindi GND, VCC e OUT. Voi tenete conto di questo modello perché alla fine sono praticamente tutti uguali. Innanzitutto il GND deve andarsi a collegare al GND del nostro Arduino, quindi in conseguenza andiamo a collegarlo qui. Poi il VCC che sono i 5V andranno a collegarsi qui. E per ultimo il nostro OUT, l'OUT Input, andrà a collegarsi al numero 3, quindi questo qua sopra in digitale. Ora potete rimettere la capsuletta davanti al nostro sensore. Non abbiamo ancora finito perché di per sé il circuito è finito, sì, quello è vero. Però dobbiamo andarlo a testare, quindi andando a collegare questo sensore. Ora vi spiego il funzionamento del programma prima di proseguire. Il sensore ci vogliono 5 secondi che venga rilevato, calibrato e avviato. Una volta calibrato un movimento o qualcosa del genere, determinerà il LED dell'accensione questa qua sopra. Ora in questo momento è uno stato di fermo, ecco ora l'ho avviato perché ho attivato il monitor. Riavviamo un secondo il nostro Arduino, quindi apriamo la porta sul nostro Arduino, sul nostro, come si può dire, sul nostro programma. Quindi in automatico andiamo sulla porta, aspettate che non me l'ha rilevato, ora me lo dovrebbe rilevare, ok. Porta numero 7, monitor seriale. Ora il nostro Arduino partirà, rileverà la calibrazione, ok. Ecco, in questo momento io mosso la mano e di conseguenza il nostro sensore avvierà il movimento rilevato. Movimento finito in 8 secondi, movimento rilevato in 14 secondi perché io mi sono fermato un secondo e pian piano ogni movimento e ogni movimento rilevato, che viene rilevato nel tempo, verrà tutto scritto. Cioè praticamente si creerà una sorta di log che non sarà esportato su, esempio, Blocknotes o altro, ma verrà esportato su una nostra uscita seriale del nostro Arduino. E di conseguenza l'Arduino, come vedete, rileva il movimento rilevato, l'inizio del movimento che è stato a 5 secondi e il movimento finito in 8 secondi. Come vedete, il movimento rilevato in 23 secondi, io mi sono mosso fino adesso e è finito dopo 44 secondi. Praticamente noi, andando a prendere la nostra calcolatrice, quindi adesso vado a prendere la calcolatrice, dovremmo fare solo una formula con il meno, quindi esempio, prendiamo il movimento che è stato rilevato al secondo 44, quindi ci sono stati 44 secondi, quindi 44 secondi meno il movimento e ci sono stati in quei secondi 21 secondi di movimento, di motion detector. Praticamente tutto quello che è stato rilevato uscirà praticamente fuori e verrà scritto praticamente in questo log. Ad esempio, prendiamo un altro movimento, c'è stato a 17 secondi è finito, meno 14, c'è stato un movimento di 3 secondi e di conseguenza continuiamo così all'infinito. Ad esempio, adesso c'è sempre più movimenti più lontani perché io mi sto tentando di muovere il meno possibile. Come vedete funziona veramente bene, ci dà proprio una sorta di movimento da A e poi noi attraverso la sottrazione andremo a vedere il nostro risultato finale, quindi quanti secondi è stato attivo il sensore che ha rilevato un movimento. Bene, questo qui era il circuito semplice sul test, più che altro un test molto semplice riguardante il nostro Arduino e il nostro sensore PIR. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao!